Il risultato delle universiadi lo troviamo particolarmente significativo di quanto il brand Napoli sia diventato forte a livello nazionale e a livello internazionale. C'è stato un lavoro importante per questo risultato, è una grande sfida che deve venire unita la regione in tutti i suoi territori e soprattutto la città di Napoli che è la principale destinataria e quindi questa è una grandissima occasione soprattutto per i giovani e per lo sport e per migliorare e rafforzare le infrastrutture sportive della nostra città. Quindi siamo soddisfatti e lavoriamo perché tutto questo accade nella collaborazione istituzionale massima con i poteri ordinari e senza nessuna scorciatoia da parte di nessuno.